Sarà il primo ponte dopo le riaperture di negozi locali e dopo le scene di movida selvaggia dei giorni scorsi. Anche per questo l'Italia si allerta in vista del ponte il 2 giugno, ma entreranno i controlli delle forze dell'ordine, delle zone più calde delle città e nelle località di mare. L'obiettivo è quello di scongiurare nuove folle di persone senza mascherine e distanze di sicurezza e quindi picchi di contagi. In ogni caso da nord a sud prevale la stretta dei sindaci. In Sicilia, sia a Palermo che a Catania, le zone più frequentate dai giovani saranno presidiate. Il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, ha preseduto nei giorni scorsi una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, i vertici e le forze di polizia territoriali e un rappresentante della Capitaneria di Porto. Nell'ambito del monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure di contrasto e contenimento dell'attuale emergenza epidemiologica, è stato verificato il dispositivo di controllo, con particolare attenzione alla movida e mercati alla sicurezza delle spiagge, anche in considerazione del ruolo propulsivo e di supporto delle pubbliche amministrazioni nella delicata fase del riavvio del sistema produttivo. Più controlli anche in provincia di Catania, dopo i recenti episodi di affollamento nelle località marinare, che si sono verificate in seguito all'attenuazione delle misure di contenimento del coronavirus. Il prefetto di Catania ha disposto una maggiore vigilanza lungo il litorale costiero e le zone della movida. Alla riunione hanno preso parte tra gli altri sindaci di Catania, Cicastello e Daci Reale, che si sono impegnati ad uniformare gli orari di chiusura degli esercizi pubblici. A Catania l'autorità portuale adotterà un analogo provvedimento a riguardo delle attività commerciali all'interno del porto.